ciao a tutti sono tamas bottaini e bentornati come sempre sul mio canale youtube vi ricordo di iscrivervi al mio canale in modo tale da rimanere sempre in contatto insieme attraverso la piattaforma di youtube oggi voglio parlarvi di un suono clean che ricorda molto gli anni ho definito secondo me il miglior clean from the 80s questo è uno dei suoni che a me soddisfa maggiormente perlomeno a gusto personale questo suono è un profilo tratto dal pack numero 4 che potete trovare sul sito internet www.livelayrock.com ed è un profilo di un bochner andiamo ad analizzare un attimo questo tipo di suono tre sono gli effetti caratteristici di questo suono il primo innanzitutto è un riverbero un riverbero che possa permettere al suono di prendere una sua dimensione all'interno di ciò che si suona una volta messo un riverbero abbastanza presente e largo per dare appunto una dimensione ed una profondità al suono ho aggiunto cosa? il chorus importantissimo perché è uno degli effetti di modulazione più utilizzati e più caratteristici comunque degli anni 80 e dato che questo profilo secondo me è uno dei più rappresentativi come non metterlo? soprattutto bello presente come sentite vi cala completamente in quel tipo di atmosfera ed infine per amalgamare un po' il tutto abbiamo il delay come sentite se avete le cuffie è un delay stereo così come anche il chorus è stereo ma tale da allargare ancora di più quella che è l'immagine del vostro suono un'altra delle cose caratteristiche di questo suono è il suono un po' più brillante cioè a livello di EQ sono andato ad agire dalle 5000 in su ossia nella cosiddetta zona della presence questo in modo veloce era un po' la presentazione di uno dei miei suoni che potete trovare all'interno del sito www.liplayrock.com sono molto fiero di tutti i pacchetti che sono presenti e in modo particolare volevo omaggiarvi di questo suono che si chiama wherever you want tratto tra l'altro anche da quella canzone rappresentativa degli status quo che fa più o meno così vi ricordo quindi di iscrivervi al mio canale di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video e soprattutto scaricatevi gratuitamente alcuni suoni che ho messo a disposizione online sul mio sito raccomando cliccate sul link qui sotto in descrizione così ve li potete scaricare subito ciao ciao sul mio sito internet www.liplayrock.com colla ce la faremo ce la faremo si 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 ahhh ciao 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 ciao